strano parlare tanto di sport in questi giorni in questa settimana giorni in cui sin da piccoli siamo abituati a guardare le girando le colorate i palloncini gonfiabili a mescolare passione religiosità e senso di appartenenza giorni in cui i misteri avvolgono tutto cancellano il resto sono capaci i misteri anche di farci mettere da parte la passione per un pallone che rotola ma in questo 2023 sta accadendo qualcosa che nessuno di noi si sarebbe aspettato come un ciclone è arrivato questo prestigioso imprenditore Valerio Antonini che ha spiegato alla luce del sole che vuole prendere il trapani e rilanciarlo fra le pieghe dei suoi contatti e dei suoi incontri trapela pure che avrebbe in mente di creare una sorta di holding dello sport granata salvando anche la pallacanestro trapani e rilevando nella proprietà con la nostra abitudinale onestà intellettuale ci rivolgiamo alla città ai tifosi agli sportivi con tutta la cautela del caso siamo scottati da quasi tutti i personaggi che hanno gravitato intorno al mondo trapani calcio negli ultimi anni abbiamo ascoltato e visto gente che diceva di possedere mezzo polo nord e poi non disponeva neanche di un ghiacciolo abbiamo verificato se Valerio Antonini stia mantenendo le promesse iniziali primo ha effettivamente costituito una srl per gestire l'acquisto di calcio e basket si chiama sport invest srl aveva detto anche che avrebbe aperto un conto bancario per versare il denaro necessario per gestire i primi due anni di attività fatto anche questo perciò continueremo a seguire il suo entusiasmo e la sua voglia di portare in alto i colori granata curiosi di vedere i suoi prossimi passi e curiosi di vedere se l'attuale proprietà del trapani continuerà a rifiutare le offerte di Antonini che oggi peraltro sarà allo stadio ad assistere a tramani ragusa capiremo insieme lo spessore del suo operato intanto oggi ci tocca il nostro dovere seguirlo con fiducia abbiamo riacceso la speranza grazie a tutti